Poco più in là dell'enorme bacchetta magica posizionata in piazza San Michele ritroviamo anche quest'anno lo stand di Warner Bros per il Lucca Comics & Games. E la bacchetta non è lì a caso visto che la prima macro area tematica dello stand è dedicata interamente al merchandising di Harry Potter e di Animali Fantastici, a breve nuovamente nelle sale con i crimini di Grindelwald. Dalle fedeli riproduzioni di bacchette, casacche e calderoni si passa poi alla seconda macro area dedicata all'universo dei supereroi DC e in particolare ad Aquaman vista l'imminente uscita della pellicola diretta da James Wan che vedrà come protagonista Jason Momoa nei panni di Arthur Carey. Prima di uscire dallo stand gli appassionati avranno l'occasione di provare su quattro diverse postazioni di gioco lo spassosissimo LEGO DC Super Villain firmato da TT Games.